Nella serata di venerdì, nella Sala della Regola Santo Stefano di Cadore, il Consorzio Forestale fra le Regole del Comelico, preseduto da Pietro Buzzo, ha presentato il progetto Corwood per il riposizionamento competitivo della filiera del legno. Un progetto nato ancora prima dell'arrivo della tempesta Vaia e che ora appare sempre più importante per risolvere il problema della gestione del legname. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di alcune università italiane e di Dolomiti Project. Sono intervenuti alla serata Emiliano Done per Dolomiti Project, Enrico Cancino, responsabile del progetto, lo storico Giacomo Bonan, Graziano Martini Barzolai e Gianni Petrizzoli, amministratore della Regola di Costa. Il progetto che abbiamo attivato è relativo all'intersezione tra le regole del territorio e cosa possono fare le regole per quelle che sono le attività economiche, quindi abbiamo voluto interagire con quelli che sono i comparti economici locali, dall'artigianato all'agricoltura, più che al turismo, per riuscire a cercare di metterci al servizio appunto del territorio come regole e creare un'economia circolare per tenere economia in territorio. Diciamo che questo percorso è nato per riproporre quello che è stato il consorzio forestale della regola del Comelico che ha saputo valorizzare fino al 1994, quando è stato sciolto per X motivi, valorizzare le risorse sia legnose che territoriali e riuscire a creare economia per le persone del territorio. Chiaramente usciamo da uno schema pubblicistico che era stato adottato ai tempi per entrare su quella che è una dimensione, una visione imprenditoriale dell'attività consortile che dovrà nascere tra le regole appunto del territorio.